e per ora raki benvenuti a nuovo dire cari siamo qui su socialetti league per provare ad andare a vincere una partita in 2v2 raga niente, ci diamo partita perchè devi parlare per forza perchè voglio te cari mi ha dato la cara mamma è stata la nana vediamo la faccia i rai i rai si 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 eccoci la panghia ma la squadra è blu? che sta per segnare no non ci arrivo non ci arrivo è un po' simile è un bello sto stadio è questa dobbiamo vincere vai fra vai fra vai go no non ci no no fra non ci credo come è pos- no sta ancora mangiando col subito raga eh ma la raga non ci arrendiamo frate devo stare a sinistra vai 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 eh sì sì oh no vai no tira 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 porta vuota fra vai fra vai una a uno grande vai una a uno raga fra dove stai ma perché vai sempre in bordo vabbè fra spara para para e dai una volta tu li stai in bordo in giù stai via vabbè 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 ma c'è 3.020 vai no no sì no 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 vai no 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 cosa ho fatto non lo so manco io però almeno lo ho parato tira tira non lo so manco non lo so manco vabbè che ho detto vabbè eeeh vai ok tira se stai vi importa mo mo se vi importa così tira vabbè non lo so manco ma mia non lo so manco non lo so manco la spagata fratilo fratilo no dai fra tira 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 no vabbè ci sta ci sta ma lo so ai dai vai 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 no come ho fatto mamma mia sì 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 no un minuto un minuto un minuto eh scendi eh sì ma non scende Ma che non scendeva la macchina No Bella Ma come ho bannato la macchina Ok, questo Banti Vai, grande, frattillo, frattillo Grande Vai, no No Dai No, è un altro uno Non c'è giù per loro Vai Vai, tira, tira Non voglio fare il tuo cuore No, niente E niente, rogo Vabbè Siamo fatti fare Tre gole in meno del video dell'altra volta, dai Ci sta Cioè no, in teoria non ci dovrebbe stare Però per me ci sta sempre la tutta E niente, rogo Spero che questo video vi sia piaciuto Ci vediamo in un prossimo video Oppure in una prossima live Ciao Ciao